allora sono sempre qui con solito con design library e mi sono creato anche un design library iso 4755 cioè le gole di scarico per filettatura solo esterna è solo esterna la iso 4755 è solo esterna allora cos'è che che faccio semplicemente devo trascinare la mia come solito la mia libreria ok qui per adesso sono arrivato solo al passo 06 dunque farò vedere il passo 06 ma vorrò completare tutti i passi ok che sono fino a al 6 ok e dunque secondo normativa iso 4755 dunque faccio vedere con la più grossa vado qui a questo punto prendo dove devo mettere la la gola e poi prendo una qualsiasi naturalmente non verso qui ma verso qua non questa perché se no me la fa di qua allora prendo qui ok mi si crea e sono a posto perché oggi ho tutti i valori in automatico e questa sono con i valori minimo e massimo è cioè nel senso ho preso il g1 minimo il g2 massimo e il dg secondo norma e dunque una rappresentazione abbastanza veloce senza poter modificare ok perché già scelgo il passo lì d'altronde non potevo farlo in automatico a questo punto bisogna sapere già prima il passo giro andiamo a vedere un'altra mettiamo per esempio trascino facciamo passo qua 0 4 ma credo sperando di non aver sbagliato ma non penso controllato due volte questo e questo a questo punto mi viene fuori in automatico che sono a posto vabbè molto molto interessante ci vediamo la prossima vediamo